Orfana di ben due edizioni della giostra del Saracino, l'estate a Rettina non sarà comunque priva di eventi che dovranno, gioco forza, rispettare tutte le normative anti-covid. Intanto, anfiteatro sotto le stelle, musica, danza e teatro in uno dei luoghi più belli della città. Si comincia il 23 di luglio con Arezzo Music Fest che porterà nella nostra città nomi come Capusella, Samuel De Subsonica e Daniele Silvestri. Parlando invece di mostre da non perdere a Cortona, Cortona On The Move, il festival fotografico quest'anno dedicato alla pandemia. Anche negli altri comuni dell'Arettino si prova a portare avanti alcune manifestazioni, ce lo conferma il prefetto di Arezzo, Anna Palombi, tante le richieste che stanno arrivando agli uffici competenti. Sì, sto ricevendo moltissime richieste perché il territorio è veramente sempre molto attivo in questa occasione, specialmente nel periodo estivo. Direi che abbiamo fatto sempre riunioni con i vari sindaci per tutte le manifestazioni che ci sono, quelle più, diciamo, che comportano la presenza di più persone, però vengono fatte tutte con le norme anti-Covid, con il distanziamento che è essenziale, con l'uso di mascherine, con il misuratore della febbre quando è possibile. Quindi diciamo che per quelle manifestazioni dove è previsto anche che il pubblico venga seduto è molto meglio naturalmente perché lì è più semplice il controllo, ma anche ottenere il distanziamento e evitare qualsiasi pericolo, insomma. E quindi, insomma, siamo veramente molto pieni di queste richieste. Ma è anche giusto, secondo me, è anche giusto che la popolazione riesca ad attivarsi, a divertirsi, a rivivere, ecco, a vivere questo momento, però quello che io mi sono sempre raccomandata di dire è quello di usare, cioè di essere responsabili, di usare questi piccoli accorgimenti che possono essere molto utili.